Una ventina di carabinieri, tra quelli della compagnia comando di Assisi, la stazione di Santa Maria degli Angeli, i militari della squadra operativa di supporto hanno effettuato un maxi controllo questa mattina nelle zone più calde della città di Santa Maria degli Angeli. Le fiamme d'argento coordinate dal comando provinciale, il loro comandante della compagnia di Assisi, Maggiore Marco Vetrulli, anche lui sul posto, hanno letteralmente passato al setaccio i parcheggi della Basilica Patriarcale, quelli dei principali supermercati, con una puntata anche davanti all'interno dell'area della stazione ferroviaria di Assisi. Da quanto si sa, ma i dettagli saranno di certo forniti nelle prossime ore, sembra che siano state controllate una ventina di persone, fra queste anche qualche cittadino straniero di origine africana. I luoghi controllati sono il territorio di conquista ed esercizio della professione, chiamiamola così, di parcheggiatore abusivo. Non solo questo, però, l'accattonaggio molesto è diventato un altro dei grandi disagi per la città. Le persone che arrivano alla chiesa, tutt'altro che maldisposte nei confronti dei mendicanti, fanno però fatica e c'è da capirli a chi prima chiede soldi e poi si mette al cellulare utilizzando uno smartphone di ultima generazione. Da quanto si sa, i controlli non sarebbero terminati.